Ah, avete anche voi la guillotine? E questo è un regaluccio che ci avete portato voi dalla Francia. Prima noi sti lavoretti li facevamo a mano, con accettata, zangate. Oddio, che cosa orribile. Ma c'è barbara. Eh, barbaro sì. E questo è più moderno. Vuoi mettere il condannato sta più comodo là su. Ecco l'altro mio! Devo cercare la mignotta! Vado a cercare di due! Grazie! A morte! A morte! Senti come batti! Senti! Sì! Che sei emozionato? Anch'io, sai? Per lo spettacolo? No, è un'emozione di mano. Levatemi il cappuccio! E ridate il mio cappello, forza! Ma quelle, Don Bastiano, l'hanno beccata. Ma lo conosci? Chi è? Un amico mio. Per l'ultima volta sei ancora in tempo, figlio. Avanti, non cammini. e, va, lo conosci la mia! Allora... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.